30-40 minuti sarebbe il tempo intercorso tra l'attacco dei cani e la richiesta di aiuto tempestivo Mavano ai soccorritori giunti a Campolongo, alla periferia di Eboli, la mattina della tragedia costata la vita al piccolo Francesco Pio. La telefonata di aiuto è delle 8 e 28. Gli investigatori devono ricostruire cosa è accaduto nel tempo trascorso tra l'incidente e la richiesta di pronto intervento giunta al 118. Le urla provenienti dalla villetta gialla ridosso della litoranea di Campolongo lunedì mattina sarebbero state udite dai residenti qualche minuto prima delle 8. Ma la telefonata per allettare i soccorritori è giunta mezz'ora dopo. Al vaglio degli investigatori ci sono i tabulati telefonici dei familiari del piccolo Francesco Pio, anche quelle che annunciavano la tragedia. Durante la fiaccolata di giovedì sera Franco, il nono del bimbo, che aveva in mano le rose bianche che poi con gli altri familiari ha deposto dinanzi il cancello della villetta dove il bimbo è stato ucciso dai pitbull, ha ricostruito le fasi dell'incidente, come aveva fatto già qualche ora prima con il sindaco di Eboli, Mario Conte. Nessuna tolleranza, dice Mario Conte, nei confronti di chi detiene i cani senza rispettare le norme di sicurezza. Chiedo di usare un seruolo e guinzagli. Aspico che a livello nazionale sia istituita una patente per i possessori dei cani ritenuti pericolosi. La tragedia accaduta a Deboli deve far riflettere l'intera Italia.